Benvenuti nel sistema di navigazione Dondon 08. Inserire destinazione. Destinazione inserita, oratorio. Prepararsi alla partenza. Salire in sella. Allacciare caschetto di sicurezza. Controllare pressione gomme. Sbloccare ammortizzatori. Sollevare il cavalletto. Indossare occhiali da sole. Pronti per la partenza. Pedalare. Campanello. Macchina. Clacson. Frenare. Semaforo rosso. Attenzione. Discesa. Pedalare. Pergi di sera. Ritergi di sera. Asciugare sudore. Attenzione. Moscerini. Semaforo rosso. Semaforo rosso. Attenzione. Discesa. Foratura. 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 Rigonfiare. Attenzione. Discesa. Senza mani. 1. 0. E Ritone. 1. 1. 1. arrivo. Lavori in corso. 500 metri all'arrivo. 100 metri all'arrivo. Sprint finale. 10 metri all'arrivo. 5, 4, 3, 2, 1, sei arrivato. Don Don è lieto di aver viaggiato con te. Al prossimo viaggio.